Ritorna ad Alghero il Festival del Mediterraneo. L'evento musicale organizzato dall'Associazione Arte e Musica partirà domani sera alle ore 21 nel Duomo di Santa Maria, con la rassegna internazionale organistica giunta alla sua ventesima edizione. La musica dunque non si ferma. Il concerto, gestito dalla direzione artistica del maestro Antonio Mura sotto il coordinamento artistico del maestro Ugo Spanu, si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le norme anticontagio. Ad aprire il concerto musicale sarà la giovanissima organista classe 97 Benedetta Porcedda, studentessa del Conservatorio Palestrina di Cagliari, già protagonista di numerosi eventi musicali anche internazionali. A seguire un altro giovanissimo della musica, Domenico Lavena, 19 anni, anche lui studente al Conservatorio di Cagliari, con alle spalle numerose esperienze e concerti. L'ingresso per il Festival è gratuito. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 23 luglio, sempre dalle ore 21.